CINEMA E FIGUREDI Appena si assolutavano i luci, subito un rumore si sentia. Nucone lucia partìa anche il buco e corria verso il quattroianco che pigliava tutto il muro. Quando trassi entro il cinema, si era cominciato, niente si vedia. L'occhio allo scuro si abituava e, piano piano, con pacenza, accarezzando i sedili, trovavo il posto, ma mi posso aspettare. Quando si aggiomavano le luci, mi ricordo ancora che le voce c'era covendia gazzose, cucelati, nocciolini o ciccioricaliati. Appena luce si assolutava, il capo ripigliava cuo rumore e intoccò nelle luci tanti figurelli, piano piano, si muovivano, arrivavano allo muro e, per magari, persone diventavano. Si minavano, si sparavano, si abbrazzavano oppure si vasavano. Verso chi la luce, saio o fumo, s'allarga e poi si giungia, dei poltrone ligno si muovia, muovio a ballare assai mi piacea. A ballavano i cavalluzzi, chi o fumo do tabacco ne hacia. Mi pigliava chiù e chi rucchissù bati la ianca succedia. Cagliere, il cinema orzo pensi che per chi sto mi piacea.